Il comune di Baveno ha dato il via a uno studio di fattibilità per progettare il completamento della pista ciclabile tra Ferriolo e Baveno, un percorso che sarebbe a quel punto il proseguimento della pista ormai quasi terminata che arriva fino a Verbagna. Per muoverci in questa direzione, spiega il sindaco Alessandro Monti, in questi giorni abbiamo dato un incarico a un professionista per la redazione di uno studio di fattibilità per il tratto di nostra competenza, dalla fine attuale all'ingresso in autostrada a Ferriolo fino a Baveno. Si tratta di un'opera complessa e costosa, si prevedono circa 2 milioni di euro e la redazione del progetto ci permette di portarci avanti per poi partecipare a futuri bandi per il reperimento delle risorse necessarie. Monti chiede però un coinvolgimento della regione. È necessario che la regione Piemonte sostenga il progetto della pista ciclopedonale del Lago Maggiore in maniera reale, vista l'importanza per il territorio. Dopo l'incontro avvenuto in regione con il presidente Alberto Cirio a febbraio, ci aspettiamo che mantenga l'impegno di venire a Baveno per fare il punto con i sindaci dei comuni interessati e con le province del VCO e di Novara.